Non proprio i nostri anziani Quindi ci siamo quasi, insomma Io non ho di certo In questo caso In questo caso il nostro gruppo non fa altro che andare a trovare il problema giusto si posizioni Il gruppo di conseguenza si muove fino alla pista bullying dopodiché si avvicinerà il più possibile per tirare la pallina a poteggio nel caso di una tradizione, ecco, in questo caso qua l'errore può essere quello di perdere la pallina durante il percorso in questo caso, in quest'anno c'è la possibilità di richiedere la pallina da parte dei giudici per riportarla in base in questo caso qua dovrebbe andare a fare dei disastri se non è un momento in questo caso qua gli arbitri potevano riportare la pallina in base ai ragazzi in conseguenza arrivano un secondo di giudizio dopodiché non dovrebbero più riprovare la gara il problema qual'è che i verili non possono essere abbattuti soltanto per questo errogo ma devono essere abbattuti solo ed esclusivamente tramite la pallina stessa ok, in questo caso qua nemmeno uno strike ma quindi in base 3 su 6 è già quel colo insomma, il suo turno di gioco l'ha svolto almeno in questo caso inizierà a buttare giù degli oggetti in maniera troppo pericolosa perfetto